Ciao a tutti, bentornati alla tripletta. Ciao Luigi, bentornato. Ciao, grazie, mi siete mancati. Immagino. Sì, sì, a Madrid sentivo la mancanza della nebbia di Crescenzaga. Immagino anche questo. Come è andato a Madrid? Bene, bene, poi è una partita a suo modo storico, insomma ne parleremo. Hai mangiato qualcosina del tipico? Sì, 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 molto. No, soprattutto carne buona. C'è un ristorante, non facciamo pubblicità, che però è il mio preferito in Europa. Ah, vai sempre lì quando... Ah, in Europa addirittura? Sì, dove vanno tutti i giocatori del Real, anche dove andava Ronaldo, che è una buona forchetta, quindi una garanzia. E quindi, insomma, siamo stati bene. Poi, bella partita. Un cibo italiano o spagnolo? Argentino, questo era. Ah, questo era l'argentino. In una staccaus, no? Sì, sì, una roba così. Fantastico. Samu, bentornato, come stai? Sto bene. L'altra volta eravamo quasi contenti di aver vissuto la sosta nazionale, ma adesso che è tornata sono veramente triste. Forse stavamo, forse eravamo accecati da quell'Italia e ora sono molto triste. Beh, se dici dopo la pausa si è andata bene, allora dici è stata una pausa bella. Speriamo, speriamo. Marco? Non c'è Conticello, quindi già qualcosa di positivo. Subito una buona notizia, infatti. Quindi oggi non hai nessuno che ti bullizza come fa qui. Bullizzato da Conticello? Cioè, veramente, mi ritirerei a vita veramente privato. Oggi c'è Samu. Va bene, ragazzi, allora il menu di oggi, allora, oggi è tantissimo in cui parleremo, quindi la possibilità che andiamo sopra l'ora è abbastanza certa. Primo argomento, parleremo dei big match inter-Napoli e il derby di Torino. Come se prima rubrica, top e flop, che oggi avrà un rebranding, avrà un nome particolare, poi capirete perché. Secondo argomento, voglio parlare della Roma. Insomma, situazione abbastanza difficile, esono di Juric, nuovi allenatori, chissà chi sarà, vi chiederò un commento sui nomi che stanno girando. Seconda rubrica, lettere, come al solito vi leggeremo, tantissimi commenti molto simpatici, quindi vi invito anche in questo momento a lasciare il vostro commento a questo episodio, con i vostri pensieri sull'argomento, su Di Noi, su Marco, insomma. Poi già sicuramente mi attacco perché sono già veramente... Non ho ancora trovato il soprannome, no? C'è stato un altro tentativo. C'è stato un altro tentativo, che adesso ve lo dirò, anzi, te lo dico adesso, maestro. Pochino quasi, pochino, pochino, pochino. Stavo avvicinando? Abbiamo detto l'iniziale, si può dire che la seconda lettera è giusta, quindi è mea, è mea. Sì, è giusto. Vi chiederò la vostra tesi e poi, infine, parleremo della zona retrocessione, perché c'è un commento di... Mamma mia, Miklix, come dice? Quasi, ci sei quasi. Miklix che dice, parlate sempre di Atalanta, Lazio e Ferentina, che in realtà non è vero, perché... Quando parlerete di Monza, Genoa, Lecce. Allora mi fa ridere qualcosa. Va bene. Wikilix. No, Miklix. Ah, sennò sapeva già chi retrocedeva, Wikilix. È giusto vero. Wikilix. Mi fa ridere questo commento, perché quando si parla di Milan, Juve e Inter, ti dicono, non parli mai di Atalanta, Ferentina, Lazio, non parli mai di altri. Però è giusto parlare anche di zona retrocessione, perché mai, forse, come quest'anno, in questo momento dell'anno è così equilibrata, perché comunque veramente c'è un blocco unico. Ultimamente c'era stato magari il fanalino di coda negli scorsi anni, sono tutte lì. Sono tutte lì, è vero. Tutto può cambiare in ogni partita. Va bene, però iniziamo invece dall'altra parte della classifica, quindi dal top. Inter Napoli. Luigi Sendato, te, giusto? Sì, 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 sì. Bella partita, bella partita e io credo che le due squadre hanno confermato vizi e virtù. Quindi un Napoli molto solido, come si è mostrato in queste 12 giornate di campionato, che infatti l'hanno portato in testa e fa meglio fuori casa, l'ha confermato. Quindi fuori casa ha battuto il Milan, ha impattato con la Juve a Torino, ha vinto, a parte l'esordio traumatico di Verona, però poi ha vinto le altre. Quando gioca di rimessa dal meglio e deve crescere invece ancora nella qualità di gioco in costruzione. L'Inter ha dimostrato, secondo me, di essere ancora la più forte, però ha dimostrato anche i limiti di questa stagione, che la fa molto diversa da quella dell'anno scorso. Cioè la potenza dominante ce l'ha ancora, però le manca cattiveria, le manca qualcosa. Non è un caso che l'anno scorso ha vinto tutti gli scontri diretti, tranne l'1-1 allo stadion. Quest'anno ha perso con il Milan e in casa l'ha buttata via con la Juve. Ieri ha sprecato un rigore, quindi le manca qualcosa. Però io resto convinto che anche ieri abbia dimostrato di essere la più forte. E comunque il pareggio fa questa mucchiata che ha la caratteristica dominante del campionato. Un campionato senza leperi, con tanti cacciatori. Ti piace? Sì, sì, sì. Perché promette equilibrio, promette emozioni. E credo anche che potrà durare questo equilibrio al vertice. Sì, sto guardando la classifica, ci sono sei squadre, entro due punti, più il Milan che ha una partita in meno, ovviamente. Si potrebbe inserire nelle vicinanze, non nei due punti, però. Sì, ma Tommy stai guardando la classifica della Serie B, che ti interessa di più, di la verità. No, assolutamente. Si vede, inquadrata, la classifica della Serie B, stai controllando dove era Sampdoria. La ricerca della Sampdoria. E quindi scendi, scendi. È poco fuori alla zona playoff, se ti interessava. Non è che è il nostro amico Minente che sta messo meglio. No, assolutamente no. Non fa lo spiritoso Minente. Ma chiesa, parleremo mai di Serie B? Vedrà che ci sarà un commento, parlate sempre di Monza, Lecce, 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 Lecce. No, si scende sempre di più finché non arriviamo allo Sporting a Bialegasco. Posso parlare dei miei amici, posso parlare anche qualche ospite. L'eccellenza è bellissima. Io sono andato a vedere Sina Lunghese contro la squadra di Siena. Io in promozione ho giocato, io eccellenza. Tu hai giocato eccellenza? No, prima categoria, mi sono fermato. Non sapevo questo, in che ruolo eri? Piedi buoni. Ero una mezza punta, quindi di quelle che corron poco. Tanta fantasia però. Sì, sì, un po' alla Leao, insomma, difendevo poco. No, Luiz Alberto, come se tu sei più Luiz Alberto? Te Marco invece? Portiere. Portiere, beh, non si vede in effetti. Ormai non si vede più nei tempi. No, dico con l'altezza, anche se sembri un metro e venti che ti mettesi in basso. Vabbè, abbassarmi, almeno quello, non sono ancora in età in cui mi abbasso. Posso ingrassare, abbassarmi no. Io su questo non volevo un po' di shaming. Non c'è conticello, quindi il grasso non va di muro. Oh, Filippo. Vi riporto all'ordine che poi andiamo l'uno. Siamo già fuori. Dicevamo Inter-Napoli. Sambu, tu invece come l'hai vista? Visto l'Inter che mi è piaciuta molto anche a me, nel senso bene. È bello vedere come sempre di più partita dopo partita ad attaccare nell'Inter quasi. Non sono i giocatori che dovrebbero attaccare. Pavar che va in area di rigore, Acerbi che va in area di rigore. Ci sono momenti in cui l'Inter costruisce sempre con Mkhitaryan più c'è la Noglu. Ed è una strategia che funziona. Perché comunque lo rivedremo, insomma, anche nel corso di questa puntata, quando parleremo di altre squadre, di giocatori che per essere pericolosi in area di rigore o nei dintorni hanno bisogno di allontanarsi dall'area di rigore. Perché quando stai tutto il tempo, diciamo così, in area di rigore, stai sotto marcatura. Quindi vieni, in Italia si va molto anche uomo su uomo, vieni assorbito dalle marcature, a volte anche dai raddoppi. È importante fare a volte un passo indietro, staccarsi dalla marcatura, per poi andare a colpire magari dimenticati dalla difesa avversaria. Pavar, Acerbi, con un paio di conclusioni pericolose in area di rigore, sono stati l'esempio proprio di questo concetto. Invece Lautaro e Turam sono stati forse ingabbiati. Sono stati più ingabbiati e c'è il caso, perché adesso vediamo molto spesso il centrocampista che fa la punta insieme all'attaccante. Perché? Vediamo McTominay accanto a Lukaku, Kopmenes accanto a Vlaovic, Loftus-Cic prima accanto all'attaccante. Perché è importante non soltanto per avere un altro giocatore che si inserisce, ma per separare i centrali dalla marcatura di un solo giocatore. E quindi il Lukaku deve fare un uno contro uno anziché un uno contro due. Lautaro e Turam insieme sono perfetti, perché vanno diciamo uno sul difensore, uno sull'altro. Quindi a volte però contro squadre come il Napoli, che si chiudono molto bene, anche Lautaro e Turam fanno più fatica a essere pericolosi. Ci pensano Pavar e Acerbi. Anche perché Buongiorno ha fatto una partita pazzesca. Eh sì, è stato secondo me il migliore in campo. Ha fatto una partita eccezionale. Tra l'altro è vero che poche volte il Napoli si è fatto trovare scoperto, però c'è stata una situazione nel secondo tempo in cui Turam aveva veramente la possibilità in campo aperto uno contro uno con Buongiorno. E lì Buongiorno secondo me ha fatto vedere quanto è cresciuto anche rispetto all'anno scorso. Perché Torino difendeva chiaramente i spazi chiusi, perché il gioco di Juric tendenzialmente non lascia molto campo dietro. Però proprio nella rapidità, nell'uno contro uno su più metri, qualche volta l'anno scorso, mi ricordo anche il gol che prese con la roba, con Lukaku. Invece quest'anno, cioè, quell'uno contro uno è stato eccezionale con Turam. Perché Turam, vero, magari non sarà stato la sua miglior serata, però non è che uno diventa lento all'improvviso. È stato, cioè ha cercato di saltarlo e lui è stato bravissimo. E io sono molto d'accordo con le analisi sia di Luigi che di Samuele. Aggiungerei una cosa rispetto all'Inter dell'anno scorso. Se andiamo a vedere quanti gol hanno segnato Lautaro e Turam nei tre scontri che ha citato Luigi. Cioè Milan, Juve e Napoli. Zero in due. Andate a controllare. L'anno scorso, dici? Quest'anno, cioè la grande differenza è anche quella che l'Inter, bene, porta tanti uomini a concludere, vero. Fa gol contro il Milan, Di Marco, se non sbaglio. Fa gol col Milan con Di Marco. Fa gol alla Juve con Mkhitaryan, con due rigori. Ok, Turam lì giocò un'ottima partita. Però non sono arrivati i gol degli attaccanti. No, Lautaro e Turam, anche ieri sera, Lautaro e Turam, ieri hanno giocato anche peggio rispetto a altre volte. Devo dire, soprattutto Lautaro in questi tre scontri diretti. Perché comunque Turam con la Juve, per esempio, ha fatto una buona partita, al di là che non abbia segnato. Invece Lautaro, quest'anno rispetto all'anno scorso, insomma. Sì, perché Turam comunque ha fatto un buon inizio di stagione. Sì, sì, è vero. E Lautaro invece è un momento veramente anche di stanchezza, non so se proprio c'è il caso anche di fermarlo un po'. Cioè ieri è stato veramente quasi impressionante. Cioè quella Volek ha sbagliato, che sono i suoi gol, proprio ha acciccato il pallone completamente. Nel secondo tempo uguale, su cross, Danfres invece della Volea al volo ha provato a stoppare. Cioè non fa le cose che fa sempre. Però capitano questi momenti, deciderà Inzaghi qual è la gestione migliore. Però ieri ha fatto veramente impressione, anche perché poi noi ci aspettavamo tutti. Lukaku contro Lautaro invece è stato a Cerbi contro Buongiorno. Se li sono mangiati veramente tutti e due. Sì, sì, è vero. Se a Cerbi forse è l'altro migliore in campo, oltre a Buongiorno. Sì, 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 è vero. Assolutamente sì. Io mi focalizzerei un attimo sulla difesa di Conte, perché ho trovato anche qualche dato che secondo me può essere molto interessante. Perché alla fine ieri sera l'Inter è pericolosa con i tirotafori di Ciaranoglu. Ci prova Di Marco, ci prova Barella. Riescono ad essere pericolosi in questo modo. Il Napoli si difende in maniera molto chiusa, compatta e le difese perfette non esistono e quindi in qualche modo devi concedere. E com'è che concede il Napoli? Può concedere in due modi, secondo me. Quando i centrocampisti si fanno tirare fuori, come ha fatto l'Inter, con Mkhitaryan, Ciaranoglu che si abbassano. Ogni tanto c'è stato Gilmour che si alzava su Ciaranoglu, McTominay che usciva. E in quello spazio tra difesa e centrocampo entravano i difensori dell'Inter. L'altro modo è proprio quello delle conclusioni da fuori. Infatti vedevo che il Napoli è la squadra in Serie A che concede conclusioni da una distanza media più lunga, più avanzata. Quindi comunque per cerare, per essere pericolosi contro il Napoli, bisogna farlo molto spesso da fuori. Però ovviamente se calci da fuori la pericolosità media dei tiri si abbassa. Infatti di conseguenza tirano magari un po' di più contro il Napoli, però sempre da posizioni più arretrate dove è più difficile far male. Quindi è un sistema che comunque è efficace perché quanti tiri da fuori vediamo in meno adesso rispetto a qualche anno fa? Sono davvero molto meno perché le squadre sanno che si è meno pericolosi da fuori. Eppure il Napoli costringe gli avversari a calciare da fuori. A volte c'è Ciaranoglu che fa gol, in altre partite non c'è un giocatore come Ciaranoglu e il Napoli non prende gol. Ciaranoglu riesce ad essere efficace quasi alla perfezione. Quasi perché? Soprattutto in trasferta perché in casa quando deve attaccare di più ovviamente McTominay soprattutto si alza e quindi fa la schiera a quattro. E allora lì puoi soffrire la transizione. Ieri ha fatto la mezzala, come mai in questo campionato? Sei palle recuperate. È rimasto basso. Sì, sì, è fatto una gran partita. Assolutamente sì. Infatti quando McTominay si alza, questo centrocampo che dovrebbe essere a tre, torna ad essere a tre in fase difensiva. Però McTominay ci mette di più rispetto agli altri. E proprio in quello spazio lì, ho notato che molto spesso il trequartista avversario, l'esterno avversario dipende da come giocano, va proprio in quella posizione lì dove McTominay dovrebbe tornare ma arriva sempre dopo. Nico Pasco al Co. Anche di qualche istante. Va a vedere Napoli in primo tempo, poi conta in un intervallo corretto. A bassa carascheglia. E quindi è proprio lì la difficoltà che può avere il Napoli, magari soprattutto quando deve fare la partita. Non sempre, quando deve fare la partita. Quindi ha rispettato un po' le tue previsioni, insomma, l'Inter che tira più da fuori, il Napoli che si difende molto fuori. Per alcune cose sì, mi ha sorpreso il fatto di aver visto comunque una bella partita, perché non è scontato con il Napoli vedere nel big match una bella partita. Ritmo molto alto, va detto questo. Va detto che è stata una partita a ritmo alto secondo me, intensa, molto intensa. Vi volevo chiedere invece sui commenti di Conte, alla fine partita. Insomma, Luigi, poi dico la mia. Sì, io ho la visione abbastanza chiara. Sul rigore in sé si può discutere quanto si vuole, però credo che il punto sia riuscire a calibrare in un futuro, spero prossimo, l'entità del contatto. Mi sembra che la soglia sia troppo bassa, quindi anche quello di ieri è discutibile e in questo può avere ragione Conte. Non può avere ragione invece per la ragione per cui ha protestato lui, per il protocollo, per la procedura. L'arbitro era vicinissimo, era nella posizione ideale, ha visto il contatto. Il VAR glielo conferma, è vero, c'è il contatto, vai avanti. Non c'era bisogno di andare a vedere il VAR, quindi questo è sbagliato. Ma più in generale, io credo che sia stata un po' una strategia, quella di Conte, su questo mi piace fermarmi. Noi abbiamo le chiusure preventive, tattiche, quando non devi fare ripartire la squadra. Ecco, quella di Conte di ieri, quella sperata di ieri, mi è sembrata una chiusura preventiva, cioè un posizionamento per le partite che verranno, quasi un segnale. Si è messo l'elmetto e lui è bravo nella comunicazione, ha tutti i registri. C'ha il lamento di Mazzarri e c'ha il complottismo, come in questo caso, di Murigno. E quindi coagula tutto il suo popolo, dire ci attaccano tutti, stiamo attenti. In questo senso prepara le partite che verranno. Ecco, questo sinceramente è discutibile e anche un po' pericoloso, perché in un campionato che sarà così equilibrato, che si giocherà molto sugli episodi, credo che tutti dovranno avere un grande senso anche di responsabilità, anche nelle parole. Cosa succederà a San Paolo, al prossimo sospetto di rigore, dopo le parole di Antonio? Ecco, in questo io mi sento di non condividere. Proprio lì volevo arrivare, perché è strano che Conte non sappia, diciamo, le regole del VAR, perché in effetti, come dicevi te... Ma certo che le so. Aggiungo che c'è anche l'attacco difesa alla stampa alla Malesani, perché ti ricordi a Siena, a Siena, no? No, ma poi ecco un'altra cosa da sottolineare. Nessuno ha impedito a Napoli di essere primo in classifica, nessuno ha impedito a Napoli di vincere a San Siro, di fare tre punti su sei, quattro punti su sei a San Siro, e di uscire con un punto dallo stadium. Ieri Napoli non ha avuto neanche un ammonito, una direzione sospetta, o come dice lui, da retropensiero, difficilmente, no? Esce così pulito. Quindi, insomma, non c'era ragione per lamentarsi. E questo però, ripeto, vale soprattutto come monito a tutti di moderare le parole, perché sarà un campionato combattuto, equilibrato, non c'è bisogno. Le parole incendiano, bisogna ricordarselo, le parole incendiano. Io condivido quello che dice Luigi sul discorso Conte, per me è puramente strategico. Cioè, veramente qualcosa. Anche perché, io vorrei dire al signor Conte, bene, perché non ha fatto lo stesso sfogo dopo Empoli-Napoli. Un rigore a Napoli che ci si può dare, perché è un rigore che si poteva dare, ma che, per dirgli, l'Empoli è andato a gemmi, che il direttore sportivo dell'Empoli è andato in tv dicendo un contattino, va 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 di qua di là. Non poteva dirlo lì. Diceva, no, io, rigore per noi, bene, ma non condivido questo. Non poteva dirlo lì. Se l'avesse detto lì, se veramente lo pensa così... Allora poteva essere... Però lì non è andato in tv. Però al di là di quello, per me non è rigore, lo dico. Per me quello non è rigore. Ok. Quindi, ho la mia opinione, non è rigore. Però, visto che lui si lamenta del VAR, cosa ci sta a fare, eccetera, io sfido a trovare dieci persone che tutte e dieci ti dicono è un errore oggettivo quello. Per me non è rigore, però un contatto c'è. Sì. Un'interpretazione di campo c'è a una velocità, tra l'altro, che non è quella della moviola. Secondo me, ha detto giustamente Luca Manelli, che è stato un arbitro, l'ha detto anche ieri sera, ha detto il VAR non può essere moviola in campo. Per un semplice motivo, che non è il tennis, palla fuori, palla dentro. Non è bianco o nero, chiaro. Non è un dato oggettivo. Un contatto viene interpretato in campo, dopodiché per me può non essere rigore. Per l'80% può non essere rigore. Ma non è una soggettivo, diventa sempre qualcosa di soggettivo e deve restare la decisione di campo, perché? Perché poi, questo forse anche Ambrosini l'ha detto, o Costa Curto, non mi ricordo, però quello che succede in campo non sempre è restituito dall'immagine a Ralenti. È vero. Perché se io adesso, scusami Luigi, se tu fai vedere questo a Ralenti, è cavolo di stare le carte. Trattenuta al portale. Il rigore, il rigore. Cioè, ragazzi. No, è vero. Poi è chiaro che ognuno tira al proprio molino e Conte l'ha tirata al proprio molino. Però, secondo me... Tanto un commento mi ha fatto anche sorridere il suo, e gli ha chiesto cosa ne pensa il VAR a chiamata. E lui ha risposto, insomma, non devo fare io il vostro lavoro. Voi come la vedete questa storia del VAR a chiamata? A me non dispiace. No, a me non dispiace anche se in NFL poi a un certo punto ha avuto, anche lì, forse l'hanno tolto addirittura, se non mi ricordo, ma ha creato parecchie polemiche. Il problema del VAR a chiamata è che essendo limitato, perché tu non puoi dare dieci chiamate, perché sennò ogni cosa... Se mettiamo caso, ieri Conte si gioca a quel jolly, chiama il VAR. Magari il VAR conferma anche il rigore, perché, ripeto, per me non è, però non è una cosa scandalosa. Dopodiché, poi capita qualcosa di incredibile dove l'arbitro prende la topica incredibile dopo. Immagina, polemiche, no doppie, triple. D'altronde è quello che succede nel tennis, per esempio a Wimbledon hai tre chiamate a set, se non sbaglio. Se te le giochi tutte, può essere una palla fuori di un metro, però non la puoi chiamare. E infatti il rischio è poi... Ragazzi, bisogna partire da un assunto. Il calcio è un gioco di contatto, ed è uno sport dove le interpretazioni sono tante. Cioè, non è, ripeto, palla dentro, palla fuori. C'è anche quello, perché ai tempi vedevamo anche quello, prima del VAR. Sì, esatto. Vedevamo anche quello. Però ci saranno sempre polemiche. Cioè, rassegniamoci al fatto che... E comunque dietro allo schermo, al VAR c'è un essere umano, che addirittura a volte si perde anche le cose oggettive, perché l'abbiamo visto anche perdersi cose oggettive. Fuori giochi, che non sono stati ravvisati, il tocco di mano che c'erano, la vita. Perché? Perché un essere umano può sbagliare, come un giocatore può sbagliare un gol da un millimetro, perché basta farsi un giro su YouTube, li trovi, il gol da un millimetro sbagliato. L'essere umano può anche sbagliare, con una mano grossa così davanti e non vederla, perché quel giorno c'ha la testa sulle nuvole. Male, l'errore è grave. Liverpool, quando proprio... Un errore grave, ma può capitare. Perché l'essere umano sbaglia. Vabbè, torniamo sul campo. O puoi aggiungere qualcosa sul VAR? No, no. Torno sul campo. Tu non sei un grande fan... Gioco la carta a campo. No, non è che sono un grande fan. È fondamentale parlare di... Cioè, a volte si divide tra chi parla solo di arbitri e chi dice no, non voglio parlare di arbitri. È fondamentale parlare di arbitraggio, perché è il gioco che amiamo. Ma bisogna parlare in maniera educativa. Educativa, certo, è fondamentale. Come fa Marco Vidi. No, no. Io vengo dalla famiglia anche. Regolamento alla mano. Arco, cugino. Fratello, cugino, vicepresidente di sezione. Però non è quello. Quest'anno lo sapevi tu? No, non lo sapevo. Quando giocavo l'Anche Capitano ho preso anche i gialli per protesta, intendiamoci. Non è perché quando sei in campo, sei in campo. E tu hai giocato con il tuo cugino? Arbitrato, sì. Sì. Ma tu hai perso 1-0 rigore conto. Ma ti sei affeso quando l'avamo... Mi ha perso anche 3-2. Per l'an sempre. Quando ho avuto 2-3 volte... Non c'è bisogno di... Un derby, c'è capitato. Mi ha perso 3-2. Avere, prima di cambiare l'argomento volevo fare un'altra domanda su Napoli. Perché, Luigi, tu mi avevi detto che il Napoli sta vincendo le partite abbastanza semplici. Ora ci sarà un filotto di partite un po' più difficili e questo ci dirà che squadra è il Napoli. Adesso il Napoli viene dalla vittoria contro il Milan, la sconfietta contro l'Atalanta e il pari gioieri contro l'Inter. Tra l'altro che ha rischiato anche di vincere, volevo dire, con l'ultimo respiro, Simone non è riuscito a inquadrare la porta. Quindi cosa ci ha detto questo filotto del Napoli? Il Napoli è veramente una squadra che può vincere lo scudetto, secondo te? Sì, certo. Ma è una squadra battibile. Nel senso, prima sembrava quasi di no. Abbiamo visto che l'Atalanta può far male con qualche accorgimento tattico, che l'Inter può far male. Il stesso discorso. Quindi il discorso sul Napoli si rinnova. Anche se la questione che abbiamo sempre ripetuto, comunque sia delle coppe, piano piano nel corso della stagione andrà sempre di più scemando. Perché comunque metti caso che poi l'Inter uscirà, spero il più tanti possibile, Milan uguale, Juventus eccetera. Vedremo con il tempo se... Cioè, forse sarebbe stato utile per il Napoli accumulare un po' più di vantaggio nel girone d'andata. Sarà utile, insomma. Dovrà, secondo me, provarci. Ecco, quello sì. Perché il girone di ritorno può fare comodo. Tommaso, puoi richiamare Conticello che dice cose troppo sensate. Non c'è dibattito. Eh no, diciamo... Non c'è dibattito. Non c'è solo cose giù. Spara una Conticella. No, arriveranno, arriveranno. Arriveranno le Conticella. Poi lo chiamiamo. Allora, visto che parli di Conticello, vuoi fare un gancio su un argomento a lui molto caro. Lui è un grande fan di Ildiz. Sì. Volevo passare... Finalmente ha segnato il Fanta Calcio. Sai che ce l'ho. C'ho anch'io. A caso troppo. E volevo quindi passare al derby di Torino e fare una domanda, una provocazione che tra l'altro era anche del titolo del sito stamattina a una certa ora che poi cambia sempre il sito. Quanto del Piero c'è in questo Ildiz? Il numero di maglia? Ok. Dieci. La lingua? Della Juve, la lingua. No, bellissima. Sì, però Luigi, io mi ricordo del Piero ha un viareggio col Padova e anche con la Juve. Cioè, era... Secondo me... Vabbè, era anche un altro calcio, ovviamente. Però era... Un livello già superiore. Ildiz, però, rispetto a Del Piero... Anzi, come Del Piero, perché anche Del Piero ce l'aveva a grande applicazione. Nonostante abbia talento, è un giocatore che si applica molto. Cioè, rispetta molto l'allenatore, quello che gli dici di fare. A volte sta molto largo, anche a discapito dei nostri gol al Fanta Calcio, perché a volte sta troppo là, non tira. Però, devo dire la verità, Cianna, per essere un ragazzo di talento, nell'epoca moderna, ha grandissima applicazione. Veramente, anche sacrificando a volte il proprio talento o comunque la propria voglia, magari, di stare più vicino alla porta, di fare il gol. Lo fa, secondo me, in maniera molto seria, è molto professionale. secondo me il Diz, se lo metti con poco distante sulla sinistra, un giocatore come Nuno Tavares, passa a vedere Zaccagni che ti gioca nel mezzo spazio di sinistra, oppure se lo metti in un Atalanta in cui Ruggeri ti fa sempre quel canale lì e hai sempre giocatori a turno, propositivi, il Diz è un giocatore che può segnare il triplo dei gol che ha segnato adesso nelle stesse partite, perché effettivamente lui si sacrifica molto, è volenteroso, è bravo, ti viene a raccogliere palla praticamente in tre quarti, però per fare esempio di chi gioca a sinistra lì spesso c'è Cambiaso, però Cambiaso a volte lo ritrovi dappertutto tranne che nei dintoni di Ildiz, quindi è un po' abbandonata a se stesso ogni tanto. Con bene, nel senso, però, perché vuol dire che l'Aventus può far male anche in altri modi, però per Ildiz avere magari un esterno come Tavares che ti fa tutta la corsia ti permette di giocare un po' più nel mezzo spazio, più vicino alla porta, calciare di più, entrare di più in area, sì, però io lo giudico in maniera molto positiva. E comunque due gol con l'Inter, un gol in un derby che è una partita particolare, cioè un'altra cosa di Del Piero che sta facendo è fare gol pesanti, non è da tutti, e poi torno e dalla prima puntata della tripletta che lo dico, entra con se sao e spacca la partita e di là fa segnare Ildiz, due che saltano l'uomo, l'Inter non ce li ha, l'Inter non ce li ha e quindi in una partita anche dominante come quella con Napoli deve segnare da fuori e deve mandare dentro i difensori e non ha quelli che ti saltano l'uomo sulle facce, lo diremo sempre, secondo me resta... Ma c'è il tuo Correa? Eh... Lui saltava l'uomo quattro anni fa. Eh, saltava, no, quattro anni fa. L'anno scorso c'era Sanchez, qualcosina buttava dentro, faceva superiorità. Adesso non ce l'ha, secondo me a gennaio un intervento lì ci starebbe, penso. A te lo faranno anche? Non credo per le caratteristiche di Simone, insomma Simone ha dimostrato che non ama quell'uomo lì, se è più fedele allo schema che stropicciarlo per far entrare un trequartista, però secondo me serve, sennò rischi proprio di non vincere partite che hai in mano. Sì, sicuramente la Juve spesso ricorre a questa carta, a questa carta del jolly, sia che parte al banchino che inizi. Eh, ma anche il Napoli qualcosa c'è e curioso il Napoli che sembra che in gongia abbia superato Neres. Ah sì, ha speso tanto per Neres. A me piacciono E questo è strano questa scelta. Mi piacciono entrambi. La cosa strana è stata questa e un'altra cosa strana è la prima sostituzione di Inzaghi all'ottantaduesimo. Vieni dalla terza partita in settimana sono stanchi. Sono due cose curiosi. Luigi, perdonami, fino a un certo momento lui era l'unico munito, quindi così toglieva lui stesso. Inzaghi fino al settantesimo era l'unico munito quindi o si toglieva se stessi. Poi a un certo punto stava entrando Darmian e Danfri si aveva preso il giallo un minuto prima perché pensavano che... Invece ha tolto di barco. Ma quello mi ha stupito infatti. È perché era già preventivato non ha voluto cambiare idea all'ultimo momento. Come siamo in ritardo? No, tanto questo era preventivato l'ultima domanda sulla Juve volevo passare dall'idolo di Conticello a forse l'idolo di Samu ovvero con Miners io l'ho visto più in palla cioè più in palla più coinvolto nei sistemi Juve più sereno poi il gol non è ancora arrivato che quello sarà ovviamente qualcosa che lo sblocca te come l'hai visto? Diciamo che come tipologia di giocatore rispetto ai nomi che facevo prima McTominay Loftus Chic lui è quello che mi dispiace di più vedere così alto magari ogni tanto perché secondo me avrebbe la qualità per fare un po' più quasi come fa cambiarsi a tutto campo venire a scambiare venire a giocare a quel tipo di qualità secondo me però in generale io con Miners secondo me ho bisogno di tempo anche perché è un giocatore molto forte in una squadra tecnico molto elevato quindi diciamo che in generale tutta la Juventus adesso secondo me deve riappropriarsi dopo il derby d'Italia contro l'Inter insomma di quella filosofia iniziale che magari ad alcuni giustamente non piace perché è più noiosa ma che è quella di controllare la partita cercare di non farsi male in questo modo e poi il gol arriverà il Bologna l'anno scorso è partito più o meno allo stesso modo quindi un po' più piano per poi una volta che tutti gli ingranaggi iniziano ad andare in autonomia l'Eventus diventerà anche una squadra più produttiva secondo me Gasperini la pensa come te su Cup gli piace più basso che alto secondo me è meglio quindi diciamo poi un altro giocatore su cui soffermarsi un attimo è Cambiaso che la caratteristica è sempre uguale è molto simile a Cup Meiner's anche se Cambiaso ha quell'intelligenza e quella gamba forse anche più gamba di Cup Meiner's di essere davvero l'uomo in più secondo me se devo trovare un giocatore adesso nella Juventus davvero indispensabile non è Ildiz non è Cup Meiner's ma è Cambiaso perché Cambiaso ha delle caratteristiche veramente diverse da tutti quanti che sono essenziali per questa squadra vedevo quando a palla ci sono stati alcuni momenti in cui Locatelli doveva abbassarsi tra i centrali per completare la linea difensiva una volta che l'Eventus ha riconquistato palla in mediana a costruire ci è andato subito Cambiaso subito subito al posto di Locatelli vedeva che Locatelli era giù e quindi ci andava lui palla Ildiz Ildiz si accentra Cambiaso va a largo sono piccoli movimenti ma che poi diventano essenziali c'è quell'occasione in cui Cambiaso tira fuori di destro da fuori area con un contropiede lì accade con Pedersen che gli corre dietro lì accade perché il Torino va uomo su uomo tutto campo in quel caso quindi Cambiaso sa che essendo uomo su uomo tutto campo se lui parte e si lascia dietro Pedersen diventa lui l'arma infatti poi riottiene palla e va a calciare da fuori di destro è avanti di testa si è vero è vero ridami col ticello sta a noiare è vero Sam è bravo è un modo bellissimo una lettera al vice direttore per un aumentino chiamo chiamo va bene dai questo direi che è tutto su Inter Napoli va bene il Dario Vittorino ora passiamo alla nostra prima rubrica Top e Flop che oggi in occasione speciale è rinominata Inferno e Paradiso come mai l'abbiamo rinominata così Luigi? allora perché domani esce un mio libro non vorrei fare il Mastrotta e vendere pentole però eccolo qua anzi ti tiro fuori questo perché io la fascia l'ho tolta che l'ho letto esatto invece io voglio la fascia più importante l'esimio Cazzullo insomma ha apprezzato questo libro questo libro è una divina comedia dei calciatori quindi li mando all'inferno in Paradiso in Purgatorio rigorosamente in terzine dantesche e quindi sembra un gioco mi sono divertito e quindi la nostra rubrica prende prende spunto invece di chiamare Top e Flop oggi mandiamo in Paradiso e mandiamo all'inferno io ho avuto piacere di leggerlo grazie di avermelo dato in anteprima che in realtà non sei stato su ma è stato il direttore che mi ha regalato e mi hai divertito molto ti ringrazio spero che insomma divertirà dai facciamo un assaggino veloce leggere una parte ah sì dai velocemente allora vi porto nella bolgia dei cascatori e dei simulatori non dico chi è però magari riuscite a riconoscerlo sì perché scusa vi faccio questa introduzione veloce è scritto proprio come se fosse la Divina Commedia esatto c'è un Dante diciamo chi è anche se non gliel'ho ancora detto speriamo che non si incazzi che è Roberto De Zerbi e il Virgilio è Nils Lidom quindi per una ragione è caduto in una selva oscura il nostro De Zerbi perché non si trova più insomma come un po' è caduto adesso a Marsiglia e insomma Virgilio Nils Lidom il grande Nils lo porta attraverso per fargli ritrovare entusiasmo e quindi attraversano l'inferno come Dante e Virgilio e qua sono nella bolgia dei simulatori dei cascatori sul trampolino pronto per il volontale stava in cuffia bianca e nera lo sguardo alzammo noi seduti al suolo lui si piegò tolse la canottiera lanciò un'occhiata all'acqua di sotto unì le mani come per preghiera e si tuffò a guisa di cagnotto soltanto allora mi accorsi dello squalo se lo mangiò come un agnolotto e grazie maestro in vasca non mi calo l'acqua si tinse di colore rosso il pescicane come unico regalo restituì la cuffia e qualche osso del poveraccio appena fatto fuori e saper dove siamo maestro posso sei nella bolgia dei simulatori in aria si tuffavano per scherno per procurarsi i falli e dei rigori dovranno perciò tuffarsi per l'eterno e farsi triturare in mezzo ai denti si sono meritati questo inferno questo è un assaggio bello 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 ti sei divertito a farlo ma è un lavorone nel senso è diverso rispetto a scrivere sì un po' di anni la mia passione è per Dante quindi avevo già un po' di allenamento e ho detto a fine carriera mi faccio questo sfizio così almeno tanto vado in pensione i giocatori che mandano l'inferno non ti passano migliori eh appunto ma come dire se mandi all'inferno comunque hai pensato anche alla reazione di sì certo è un gioco quindi ovviamente non è non ha nessun nessun compito nessun ruolo di condanna di debattificazione è un gioco e quindi deve essere letto con l'attivamento e spero che venga fatta così fantastico quindi vi invito caldamente a recuperarvi il libro di Luigi che riesce domani quindi lo trovate vabbè su tutti i vari siti classici sì sì l'editore Cairo e oltre come vedete oltre a avere la rima anche un apparrato proprio come le vere commedie di di notte no? per cui c'è anche una lettura come dire enciclopedica con tantissimi anedoti per esempio nei calciatori violenti non sono messo quello Bedoia che era uno anche poco conosciuto che però era un delinquente vero quando gli è nata la figlia è andata dalla tv e ha detto cancellate tutti i fatti che ho fatto non voglio che le veda ci sono tanti anedoti così credo che sia divertente anche come come dire come riduzione come letture molto bello a me è piaciuto molto quando due leggende della mia squadra uno in inferno uno al paradiso leggende degli anni 90 non so dire chi mi invita a scoprire oltre al cazzeggio oltre al divertimento ci sono credo anche pagine commoventi l'incontro per esempio proprio con persone giocatori che abbiamo amato come Paolo Rossi o come Viale lei come Gigi Riva che fa un'invettiva bellissima contro i tiri a giro e quindi basta tiri a giro tirate come tiravo io e lui dice al posto di tiri a giro fate i tiri a Gigi che sono le bombe la palla che va via secca e questo è il tiro vero quindi insomma c'è un po' di tutto grazie altro io non so se potevo fare questa cosa mi sa che il marketing mi farà insomma pazienza ormai è andata tanto non arriveranno mai in un minuto 30 guarderanno i primi 5 minuti per metterli nelle slide poi si prenderanno lì quindi ditemi allora i vostri top of love quindi chi mandate all'inferno e paradiso allora comincio io i top of diamo veloci perché un pochino me l'ha bruciato lui cioè buongiorno buongiorno se lui parlava no ma l'hai chiesto tu buongiorno non l'ho citato prima me l'ha chiesto lui ieri ha fatto una cioè domenica ha fatto una prestazione strepitosa ma tutto il campionato è strepitoso per dirne una una secca alla Marco Guidi se dovesse dire in queste dosi il migliore Reinders per me il migliore giocatore del campionato degli italiani Cambiaso buongiorno e di Marco e comunque buongiorno migliore acquisto del Napoli forse il migliore acquisto estivo e invece nei flop all'inferno vando all'inferno volentieri l'allenatore della Tristina ok è brutta scena beh per Clotet che ha strattonato il suo giocatore che è stato espulso quindi poi ha causato anche la sconfitta della Tristina però insomma quella scena lì è brutta è brutta anche perché a caldo magari ti può scappare ma ha freddo la difesa ha detto c'era mio figlio in tribuna di 8 anni non c'è niente da vergognarsi ho fatto bene a fare così e nel momento in cui stiamo registrando la Tristina non ha ancora preso provvedimenti io mi auguro che qualcosa venga fatto o almeno venga invitato ad andare in una trattoria di Trieste davanti a un buon vino e cercare qualche anziano e farsi raccontare chi era Nereo Rocco e chi era Cesare Maldini e come trattavano i loro genitori i loro giocatori ecco come punizione basterebbe quella e si porti dietro anche il figlio di 8 anni ma è una punizione più leggera rispetto a quelle lette nel tuo libro Marco ci vuoi dire una tua guidata come la definita aprire una rubrica chiamata scuola di guidi mi hanno bocciato l'esame della patente il primo anche a me sono i migliori vengono bocciati no vabbè io in paradiso mando un giocatore di cui si parla poco della Juve visto che l'abbiamo citati un po' però Timutti ha tre gol nelle ultime quattro chiaro io ho fatto una battuta su di lui quando Motta lo mise contro il Napoli forse pensavo di avere in panchina il papà quando lo mise c'entra avanti il papà di Weah tre gol nelle ultime quattro sta diventando un po' quello che era Selemekers l'anno scorso solo che Selemekers secondo me ha addirittura più qualità di Timutti Weah proprio come qualità di piede però Weah sta diventando fondamentale uno dice si fa solo gol semplici ma il fatto che è lì è già un merito anche perché non è una punta chiaramente e ha fatto anche la punta in passato però non è una punta è un giocatore che eravamo abituati con Allegra a veder correre sul binario del 3-5-2 semplicemente andare avanti e indietro sta diventando bravo nel leggere gli spazi perché farsi trovare sempre in quelle situazioni con l'Inter col Torino vuol dire che sai leggere l'azione e devo dire che tre gol nelle ultime quattro sono tanti per quel tipo di giocatore che magari non ha è vero che c'è anche un gran gol col Comola prima però mi sta stupendo in positivo io non pensavo potesse in questa Juve addirittura ritagliarsi uno spazio importante invece non è un caso che sia contro l'Inter che nelle ultime tranne forse con l'Ill sia sempre stato in panchina uno tra Ildiz vabbè con l'Inter e con Sessao anche per giocarsi un'arma durante la partita in grado di scompigliare un po' le carte come dicevamo e invece UEA parta perché UEA dà equilibrio allo stesso tempo si fa trovare pronto e secondo me è una sorpresa in positivo vediamo come andrà quando tornerà anche Nico González beh certo chiaramente è vero anche Nico González e all'Inferno invece ci mando nel vero stesso parola perché è del diavolo ci mando Teo Hernández perché al di là dei singoli episodi perché poi secondo me sul terzo gol non è neanche colpevole Teo Hernández ma è una colpa che nasce da Musa che è stato inserito per limitare Augello è cross di Augello e incomprensibilmente si stacca di due o tre metri poi va cerca di recuperare Augello e certo è l'uovo sul cross è chiaramente di Ocafor Teo Hernández c'è un tre contro tre in aria quindi stringe e vabbè ne aveva combinate prima tra cui quella sul gol annullato un errore proprio di superficialità che per un giocatore come Teo è proprio di testa perché qua molti passa questo diciamo assunto che secondo me non è reale non è vero che Teo Hernández non sappia difendere in verità Teo Hernández se andiamo a vedere quando è focalizzato europeo con la Francia big match con il Milan tendenzialmente un giocatore capace di difendere il problema è mentale ci sono delle partite in cui Teo Hernández entra in campo svagato per un motivo o per l'altro non so quale sia ma quest'anno se ne stanno capitando troppe secondo me troppe per un capitano soprattutto e poi brutta anche la reazione è successo anche a Firenze Firenze peggio che arrivò al rosso dopo il triplice fischio preso il gol del 3-3 fallo stupido a palla lontana su Lovumbo mi sembra Lovumbo se non ricordo giallo gratuito cioè lì vuol dire che anche la reazione emotiva non è del campionissimo o del capitano e questo per un giocatore che ha tutte le qualità per essere un campione in assoluto secondo me è un limite Sam che è il tuo top flop allora mando in paradiso ancora una volta Nico Pass ma lo faccio per due motivi perché lui sbaglia diciamo così si fa anticipare in area di rigore da Vogliacco e il Como prende gol al 94esimo e per di più Fabregas gli dice in conferenza stampa che ha sbagliato in molte occasioni nel senso che non passa il pallone a cutrone tira quando non dovrebbe e addirittura dice che per lui l'NVP non è Nico Pass non è che lo dice in questo modo esplicitamente però dice che secondo lui doveva essere da Cugna eppure nonostante le parole di Fabregas nonostante l'errore anche se non è proprio il suo ruolo quello di marcare in area Nico Pass dieci occasioni da tiro create contro il Genoa mette in porta a cutrone due volte mette in porta a fatera una volta e non è scontato all'età di Nico Pass che è un 2003-2004 adesso non ricordo Palassi stanga da Cugna Palassi stanga da Cugna certo poi lui fa un bel tiro quindi comunque tanta roba e mi piace ricordarlo quasi settimanalmente quando posto di Nico Pass in Purgatorio non fai il democristiano mandalo all'inferno lo mando all'inferno sono un po' più democristiano lo mando all'inferno ma diciamo sarebbe da mandare un po' lui e un po' forse la gestione che viene fatta di lui da parte di Tiago Motta però sulla seconda parte non mi espongo troppo perché non so effettivamente cosa potrebbe fare di diverso ma Vlaovic l'ultimo pallone per tocchi anche questa volta contro il Torino è in generale l'ultimo attaccante in Serie A per palloni toccati tra chi ha giocato almeno 500 minuti nella squadra che è però prima per possesso palla cioè è un dato è una discesa diciamo così fortissima l'allenatore che secondo me per palloni toccati l'anno scorsa adesso tu lo saprai meglio di me come c'è travanti era tra i primi sicuramente la cosa che mi mi faccia in area Vlaovic è che io lo vedo sempre di più un pesce fuor d'acqua fuori l'area di rigore e prima parlavo del fatto che è importante uscire un po' dall'area per poi inserirsi e rientrare e lui proprio non riesce quando si è noto una caterva di rigore alla Fiorentina li ha segnati diciamo stando stabilmente in area di rigore da quel punto di vista è bravissimo anche la Juventus ha segnato con Allegri in un calcio anche complicato anche quest'anno sta segnando però comunque insomma mi sembra faccia davvero molta fatica però Samuele io mi ricordo soprattutto forse con Iacchini cioè lui mi ricordo una partita forse era lo stadio Atalanta-Fiorentina un po' bellissimo anche no ma al di là di beh lui il tiro da fuori comunque ce l'aveva le punizioni però Atalanta-Fiorentina mi ricordo una partita in cui l'Atalanta il solito Atalanta va all'area in maggio c'è la Fiorentina gioca più di rimessa vince 3 a 1 la Fiorentina e Vlaovic fa una partita dominante anche lontano dall'area di rigore fa una partita dominante e a me sembra anche che fisicamente non sia più quello di quello di ci sta alzando un po' il volo urlare allora urlo no vabbè no a me sembra che fisicamente non sia più quello della Fiorentina cioè era un giocatore molto più presente molto più dominante adesso al di là della tecnica che qualcuno dice eh non stoppa la palla chiaramente non è non è zirzè ok sono d'accordo però fisicamente cioè spesso è lento è impacciato ma non è solo tecnica è proprio fisico cioè a me non sembra quel giocatore da Fiorentina dal punto di vista fisico non so se è una questione mentale perché la maglia della Juve pesa di più quindi è più difficile magari mettersi quella maglia e andare in campo e dominare l'avversario non Dovbic ad esempio lui tecnicamente non è sicuramente meglio di Vlaovic è peggio è peggio a me non ti piace a te lontano dalla porta Dovbic però perlomeno è più efficace sì è più efficace però lui tra lui e Lukaku io non gli darei parte ti sto menzionando ti sto menzionando uno Dovbic che insieme a Vlaovic comunque sia tocca pochissimo in fondo fuori dall'aria però perlomeno riesce ad essere un po' più efficace eppure essendo meno sgraziato rispetto a Vlaovic che quest'anno soprattutto è fuori dall'aria di rigore sì no no un gancio perfetto per andare al secondo argomento giusto in tempo che è la Roma ovviamente voi dell'ora ti spiego ho l'iPad al 6% volevo tenere i commenti mentre parlavano guarda ti mando nel girone dei frettolosi qual è la punizione? potrebbe questo può pensare Luigi è facile i frettolosi è facile vivere sull'arancetta dell'orologio che giri perché cadi cadi quando supera mezzo cadi quando supera mezzo volevo chiedere un commento sulla Roma ovviamente i problemi li abbiamo già già detti in qualche altra puntata però adesso ovviamente Juric è stato esonerato e ci sono vari nomi che stanno girando prima appunto parliamo un attimo di Juric un dato su questa cosa che è molto importante perché la Roma da quando c'è Juric è la sesta peggior difesa per gol attesi contro di conseguenza una delle squadre che ha concesso più occasioni il Torino dell'anno scorso con una squadra di livello complessivo più basso era la terza miglior difesa due anni fa era la quarta miglior difesa tre anni fa era la seconda miglior difesa il problema non era Juric il problema è che Juric soprattutto il gioco di Juric chiede un livello di abnegazione estremamente alto di concentrazione per 90 minuti e i giocatori secondo me della Roma in questo momento magari e lui forse da un punto di vista comunicativo con loro non c'è stata questa alchimia i giocatori di Juric devono voler dare la vita di Juric per applicare quel tipo di gioco a tutto campo e probabilmente i giocatori della Roma non volevano farlo in questo momento quindi non è il problema secondo me dell'allenatore quanto della comunicazione del rapporto tra allenatore e giocatore che con De Rossi c'era e che poi non c'è stato con Juric ma il problema alla Roma quindi forse anche non iniziare la stagione con Juric forse Juric ha bisogno anche di una preparazione in estate e quindi si ritorna all'argomento madre di cui parliamo sempre manca una figura decisionale alla Roma questa distanza tra Fritkin e la parte sportiva è effettivamente il vero problema della Roma possiamo dirlo al dielato il problema di Basel che abbiamo detto anche la volta scorsa è questo la mancanza di uno uno strato importante di dirigenti che non sappiamo neanche che faccia abbiano non si vedono neanche al di sotto della proprietà americana e quindi chi ha scelto Juric Juric era l'ultimo allenatore che si poteva scegliere per una rosa del genere non c'è più chi la scelta non c'è già più è andata via pochi giorni dopo la persona che ha scelto Juric è incredibile quindi se è un giocatore come dicevamo prima comunque di tempera di corridori di fascia e qua gli dai un Luna Park di numero 10 che ne ha 4 5 insomma è proprio lui ha fatto quello che ha potuto ha cercato neanche tanto di adeguare le sue idee però aveva una squadra che non è la sua quindi la prima cosa da fare è dare una struttura societaria competente solida anche nelle decisioni e poi prendere un allenatore che con questi giocatori possa fare qualcosa se parla di Roberto Mancini Roberto Mancini potrebbe essere uno che valorizza la tanta qualità che ha questa questa rosa e quindi però ecco serve questa vertice che in questo momento non c'è ciò vedi bene Mancini alla Roma sì io lo vedrei bene posto che la Roma chiaramente tra situazioni di classifica e come dirci Luigi situazioni in generale di confusione a livello societario secondo me per quest'anno è difficile anche con un allenatore come Mancini che al di là delle esperienze non abbia solita sicuramente ha dimostrato le sue qualità è difficile sarebbe difficile quasi un'impresa per chiunque rientrare ricordiamo la Roma è quarto monte stipendi della Serie A cioè non è che quando si parla della Roma uno può dire vabbè dai recuperate è arrivato settimo va bene va bene no gli obiettivi quando parti all'inizio deve essere tornare in Champions League sono tanti anni che la Roma non gioca la Champions League e secondo me sarà molto difficile visto il distacco può essere una buona scelta si parla anche di un ritorno di Ludic Arsia non so adesso io sinceramente sull'ultima ora non sono aggiornato quindi non lo so però ecco senza fare allarmismi esagerati non brucia Roma però stiamo attenti che con una rosa così anche raffinata combattere per le zone medio-basse è difficile quando è imploso Napoli l'anno scorso aveva già messo in cascina 20-24 punti la Roma oggi ne ha 14 e deve cominciare a fare punti 13 o 13 ora ma siamo lì attenti perché devi cominciare a farli in una piazza arrabbiata è una squadra che ha dimostrato di essere anche impaurita e di non avere leader che li tirano fuori quindi non voglio esagerare l'allarme ma bisogna stare molto attenti che la situazione è veramente delicata a proposito del leader uno di questi potrebbe e dovrebbe essere forse Paolo Di Bala che ieri o con la partita con Bologna è stato anche escluso addirittura lo so però può essere leader uno che quest'estate si era deciso di cacciar via allora non può essere leader uno che si era già fatto fuori in estate c'è qualcosa che non va e questo già ti dimostra la Roma è un gomitolo di paradossi da qualsiasi parte la vedi c'è un paradosso e messa di panare questo gomitolo non sarà facile non è neanche normale che la persona che sceglie Juric che abbiamo citato prima che era Lino Suplu pochissimi giorni dopo la scelta di Juric per una protesta possiamo dirlo in civile questo si può dire di parte della piazza abbandona il ruolo però io dico c'è l'allenatore tu immaginate Juric che non è esattamente Mourinho Ancelotti cioè che si presenta con una sfilza di trofeo alle spalle per cui ha delle spalle larghe come le Champions del Real Madrid no ti presenti e la persona che ti ha scelto se ne va a poco dopo la proprietà i freehead che in oggi leggeva una cosa per me vero non sia vera però che sono nascosti in un hotel alla di Gispo ho letto anche sta cosa qua però per dire cioè siamo in una situazione paradossale la proprietà che praticamente non si sa che è fino a fatto io mi ricordo quando Mourinho disse che da 83 giorni non parlava col Presidente cioè vabbè lasciamo stare un DS che forse per la prima volta ieri pubblicamente parlato in francese perché ovviamente è arrivato da poco in Italia nonostante il cognome che sia ovviamente di origini italiane perché Ghisolfi è Ghisolfi però dico penso sia di origini italiane magari è corso non lo so però al di là di quello io dico cioè come si può pretendere che un allenatore ripeto come Iuri c'è appena arrivato chi l'ha scelto se ne va proprietà non esiste gruppo di giocatori che non è giustamente come hai detto tu quello del Torino perché perché comunque a Roma c'hai dei giocatori di un certo livello probabilmente superiori giocatori che hanno però anche pretese superiori giocatori che hanno un'attostima superiore perché magari il Pellegrini di turno il Dybala di turno Dybala poverino anzi anzi nelle poche partite che ha giocato o qualche cosa si è applicato fin troppo però c'è giocatori che magari fanno fatica a dire ok Iuri mi telecomandi come col joystick perché io sono io sono io il Barchese del Grillo e quindi era un'impresa secondo me molto difficile per Iuri siamo tutti d'accordo adesso stiamo registrando lunedì pomeriggio tardi quindi magari quando c'è la puntata è già ufficiale infatti più che lanciarsi su analisi su chi potrebbe essere allenatore come potrebbe giocare la Roma non è giusto capire come non dovrebbe giocare in questa maniera nel senso proprio da un punto di vista mentale dell'approccio alla gara e non guardare quasi gli uomini non passarsi gli uomini in fase difensiva guardare solo la palla quasi mentalmente scollegati dalla gara quello è il problema non è retorica diciamo del fatto di la squadra non si impegna e quindi a volte diciamo così l'analisi diventa quasi più sbrigativa se uno affida tutto alla mente del calciatore ma in questo caso sì cioè in questo caso c'è tanto di quella componente lì tantroppo e quindi vediamo sicuramente qualsiasi allenatore arrivi più che da un punto di vista tattico andrà analizzato da un punto di vista comunicativo come si mette d'accordo con la squadra se riesce a comunicare bene con loro beh quello che ha fatto l'anno scorso De Rossi quando ha sostituito Morigno il primo impatto è stato quello mentale sostituendo Morigno e ottenne subito degli ottimi risultati grazie a un calendario abbastanza amico però mise a posto la squadra dal punto di vista mentale e chiusa la stagione in maniera secondo me onorevole al di là che poi non è riuscito a derivare in Champions però ha fatto una buona Europa League qualche posizione in campionato l'aveva recuperata parecchie va bene passiamo alla nostra seconda rubrica ovvero lettere la rubrica preferita di Marco Guiglia adesso vi ricordano che ho detto che il Real doveva fare tre gole a Gila ci ricordano l'Inter Napoli X Inter Arsenal 1 non se lo ricordano questo è vero vorrei essere una lancia a favore di Marco accannato del prossimo Sera Madri Mila ma posso dire perché adesso voglio dire una cosa che è importante perché il calcio è un gioco per fortuna che è un gioco quindi è imprevedibile certo tu un po' come nel poker devi studiarti la teoria dei giochi presente Nash no Beautiful Mind tu un giocatore di poker bravo deve studiare la teoria dei giochi tu che segui il calcio devi studiare un po' di calcio come fa Mandarò poi però tu studi tutto alla perfezione ti immagini la partita l'avamo immaginata bene nel Real Madrid Mila tante transizioni eccetera eccetera poi è chiaro nella tua testa ma sai con tante transizioni se hai Mbappé Vinicius magari la vinci magari tre golli fai e invece poi cosa succede come nel poker che tu studi tutto c'ho K e Dama se io faccio così quello fa così poi trovi contro il poker di Natali il nonnino che gioca 2-7 perché la sua povera vedova è morta il 27 quindi le gioca ti chiama anche un rialzo eccetera eccetera K 2-7 e quel punto Nash la teoria dei giochi Beautiful Mind Russell Crowe vanno tutti a farsi benedire e perdi e calcio è uguale calcio comunque fatto gli episodi ma meno male che è così meno male che come dice Samuele Mandarò prevedere è uno dei lavori più difficili assolutamente no non è un lavoro è impossibile è impossibile anche perché comunque oltre a un concetto adesso si va sull'argomento è che comunque noi cerchiamo di prevedere da domenica a domenica al massimo da domenica a mercoledì a mercoledì a domenica e però poi ci sono allenatori che il lunedì sono presenti il martedì sono presenti cambia accorgimenti è quasi impossibile prevedere uno ci prova a volte per divertimento vabbè a parte questo adesso qualche argomento su quello su qualche commento su quello c'è però la legge mi piace primo commento mi ha fatto sorridere molto votato anche recuperi i guidi ma perdi Garlando non c'è più niente a dire ovviamente oggi ci abbiamo la coperta lunga corta non c'è più niente a dire il replay è in serie è una bella citazione no è una bella citazione certamente certamente Samuele ma non te dice sceglie tra Fabrizio e Luigi come sceglie tra mamma e papà perché Fabrizio e Samuele ovviamente ha ricoperto tra virgolette il tuo ruolo l'ho seduto qua nel tuo trono è stato molto apprezzato sì Fraburgo qua ha parlato beh hanno confuso Milan ancora a Madrid nel pronostico vabbè ma guarda che io vado a rivedere la registrazione parlavo di Cagliari Milan 3 a 3 l'ho detto giusto 3 a 3 Cagliari Milan ero avanti ero già avanti sicuri ero già avanti capri che commenta sempre dice comunque per simpatia passione umanità l'anese più bello rischia di essere col di Fabrizio sul 13-13 dall'angolo vogliamo sapere quanto si è fermato è un giocatore di basket pazzesco tu Luigi giochi invece a qualche altro sport o hai giocato in passato? beh adesso in gazzetta ci siamo impallinati da anni col padel non è uno sport scusami non è uno sport parliamo di sport è sport quello non è uno sport è un passatempo sei bravo? no non tantissimo però mi diverto poi insomma corro meno che a tennis giustavere Matteo invece vuole aprire un dibattito sull'Atalanta qua si rifà un commento che hai fatto te Marco dice l'Atalanta non ha una panchina di livello questa era una citazione tua quando è l'unica squadra in Serie A che può permettersi di tenere panchina Rettighi Berlanova Sammerzic Cosnò e tanti altri poi si aggiungeranno Scalvini e Scammacca poi Alessio invece risponde dicendo perdendo l'autoparty diciamo che il problema di Atalanta non sono questi nomi ma sono le riserve soprattutto in mediana dove ci sono praticamente solo Deron e Ederson se non gioca Deron l'Atalanta ne prende quattro Luigi tu ieri hai visto l'Atalanta Udinese l'hai visti i primi 40 minuti senza Ederson il punto il punto è questo e sarà il punto del mercato cioè bisogna comprare un giocatore una riserva di Ederson muscolare ma anche di qualità un'ectomina per intendersi e una punta veloce un Nico Gonzalez ecco con quei due giocatori il recupero di Scammacca e Scalvini che ormai è prossimo se la può se la può giocare no con Scammacca e Scalvini ma aggiungo questo è eminente eminente ma sta guardando gli highlights della Salernità cosa devi guardare gli highlights della Salernità con Scalvini e Scammacca effettivamente è tutta un'altra cosa perché sono due innesti da titolare in più cioè chiaramente io quando faccio quel discorso la vedo senza calcolare Scalvini e Scammacca perché se aggiungi loro sia in difesa che in attacco è una rotazione importante in più il centrocampo ha ragione Luigi secondo me ha ragione il nostro amico Alessio Stobini Alessio quando ci vedrai avrai ne dicono una gazzetta che apre con l'Atalanta quindi tutte queste riflessioni troverai anche sul giornale e se diciamo che da Scudetto Gaspa ci mangia tutti bravo però insomma è giusto invece ragionare anche in quella prospettiva se si completa se non si fa male a nessuno aveva disegnato Gaspa è la squadra dello Scudetto posso chiederti una cosa Luigi però ieri cioè ieri domenica continuo a dire ieri ma infatti ci guarda un altro gioco domenica è la classica partita che secondo me l'Atalanta in altri anni non avrebbe vinto e non meritava di vincere bisogna essere onesti non meritava di vincere eppure le squadre vincono i campionati vincono anche l'Atalanta mancava questa caratteristica di vincere quelle partite tante cose gli mancano però ha delle cose in più che l'anno scorso non aveva questa e l'ha detto anche Gaspe noi dopo Dublino siamo un'altra squadra cioè la confidenza la consapevolezza che ti dà una coppa enorme quindi questa è un'altra Atalanta a questa altezza della stagione non è mai arrivata con questi no no è vero con tanti punti così e fioriva in primavera adesso è già lì in testa e cosa può fare a primavera è giusto chiederselo insomma senza pronosticare in lungo però l'Atalanta è una cosa nuova con cui bisogna ammigurarsi ma ti dico anche Atalanta Monza è una partita che in altri anni forse non avrebbe vinto cioè sbloccarla dopo quando non sbloccava le partite ai tempi poi faceva fatica magari prendeva il gol in contropiede invece qua l'Atalanta era Atalanta Como sì sì che è andata sotto e non l'ha più rimontata e aveva tante partite in passato così adesso ha fatto solo quella sì 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 vabbè che non ce ne voglia il mister ma chissà se questo sarà l'anno dell'Atalanta e invece sul dibattito di Marco ti hai detto che Di Marco non è insomma ma no ma anche lì voi mettete sempre adesso mi lamento con quello ho segnato i tre uno ha fatto ho perso il commento ecco qua in realtà dice Di Marco è il miglior crossatore del mondo crossatore non esterno i palloni che mette Di Marco non li mette nessuno sono abbastanza d'accordo sul cross sono d'accordo no ma ragazzi ma adesso va bene tutto però ha fatto la pillola dove sembra che io vado in realtà era il mio top Di Marco era il mio top l'ho citato io come top della settimana poi mi vedete su youtube il teatro e su instagram ti odiano ma sai la pinettina come lo chiamano proprio per empatizzare il suo valore Di Marco Guidi Di Marco Guidi però è vero no però a parte scherzo come cross è vero Di Marco secondo me come piede come cross è uno dei migliori perché poi Vito invece dice se mi dite che Grimaldo ha più piede di Di Marco non state bene secondo me io non sono d'accordo con lui perché ti dico Grimaldo come piede io come piede intendo tecnica la fermo fondamentalmente secondo me Grimaldo ne ha più di Di Marco Di Marco ha forse il cross in più il cross è d'accordo con lui invece l'ultimo commento su questo commento Teologio7 dice che Teo estero nel centro campo in una squadra attrezzata come l'Inter fa 20 gol e 20 assi vabbè vabbè discorsi non lo so un ruolo potante diverso però ha ricevuto ben 63 mi piace va bene questo era erano i commenti sul dibattito di Marco invece questo un commento contro Filippo Conticello questo mi piace Valerio dice uno di noi o italiano medio ha allenatore Baroni della Lazio dice uno che dal calciatore ha vinto lo scudetto dal titolare con il Napoli di Mardona non è uno di noi è un uomo di calcio ma è umile noi non siamo più abituati alle persone umili beh però molto retorica nel senso è umile è comunque una persona può essere uno di noi anche se ha vinto lo scudetto con il Napoli o è un alieno viene da Lecce Verona Filippo intendeva quello chiaramente ha fatto anche il gol con la Lazio decisivo quell'anno la penultima giornata Napoli-Lazio la zero segna Baroni di test sulla Lazio tanti commenti vi dico la maggior parte sono stati non parlate di noi non ci portate sfidi però Andrea per esempio dice dico da Laziale che non siamo addirittura da Champions quindi dal primo quattro ma possiamo andare avanti in zona Europa League sicuramente ci sono squadre più forti quindi vuole essere realista mentre invece Bella Rovi questo commento surreale forse falso la Lazio è una tifosiera migliore della Roma e sono romanista insomma probabilmente è un laziano che si è vinto non lo so però la cosa che mi colpisce di più della Lazio è che è importante è proprio la magia che si intuisce cioè anche la coesione tra loro l'allegria dopo le vittorie cioè c'è qualcosa che caratterizza sempre le stagioni magiche e la Lazio ce l'ha anche più dell'Atalanta anche più della Fiorentina c'è questa bisogna vedere quanto dura poi questo fluido infatti Gian Piccaro dice non lo dite non fate pronostici ora che va tutto bene parlate della Roma la Lazio lasciateci in pace l'understatement ultimi commenti mi sono segnato sul dibattito non dibattito anzi sul commento di Moise Ken che è un'altra quindi è ancora più attuale Raffaele dice noi Juventini non potremmo mai rimpiangere Ken mi dispiace mentre invece Alfio risponde in questo momento Ken maggiore di Vlaovic da Juventino Giobbo invece dice Ken è fortissimo bisogna però considerare la differenza tra far bene una piazza come Firenze la più adatta Ken e andare a una delle società più blasonate d'Europa come la Juventus e gli può rispondere Vlaovic che ha giocato in entrambi ha fatto benissimo la Fiorentina ha praticato più la Juve quindi posso ragione quello che ho detto anche nelle puntate scorse sembrava che la Fiorentina che la Juve avesse fatto l'affare dell'anno a sbolognare a quel prezzo lì e io dicevo occhio che a fine stagione vedremo che l'affare l'ha fatto la Fiorentina resta convinto che l'affare l'ha fatto la Fiorentina gli ha dato troppo spazio poco spazio l'anno scorso la Juventus per giocare al di là degli infortuni dire non ha fatto neanche un gol è poco appena ha avuto la possibilità di giocare con continuità dieci partite è venuto fuori l'anno scorso Ken ha segnato tre gol annullati per un niente pure sfortuna erano tutti da annullare come? erano tutti da annullare non fare l'antivare no no erano fuori giochi la manata col Verona sì 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 erano da annullare fuori giochi però tutti un millimetro no Ken già l'anno scorso l'arci vicino vale solo a bo sì infatti c'è un altro commento che non mi sono segnato ma diceva i veri affari li facciamo noi da Fiorentina non come quelli che abbiamo rifillato noi come Bernadeschi 40 milioni c'è un altro commento del genere va bene passiamo alla tesi che sia un minuto vero perché stiamo andando lunghissimo ormai io non ce l'ho quindi vi lascio sempre per loro anzi faccio iniziare Marco no 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 prima Samuele no no prima Samuele ed è un gancio bellissimo per il prossimo argomento se volete ce l'ho dai Luigi scusami no 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 lui ci devi dirlo vai allora mi leggo ai 50 anni di Ale del Piero per me è più forte di Totti e quindi ok perché stessa grande qualità stessa bellezza stesso attaccamento alla maglia il criterio che scalza è essere decisivo nella continuità e fare gol pesanti finale di Coppa Intercontinentale tanti gol scudette e per questa sua decisività io se facevano una galleria metto del Piero davanti a Totti questo è forte mi preluderà l'ingresso nella capitale però vabbè insomma ci è già stato tante volte Marco allora io lancio un'altra provocazione ai tifosi del Milan visto che seguo il Milan per lavoro io sono convinto che il Milan nelle prossime tre partite si gioca davvero la possibilità di arrivare quarto non eri diventi di tornare in corsa allo scudetto di arrivare quarto perché gioca contro Juve e Atalanta dovesse sbagliare quelle partite secondo me anche il quarto posto diventerebbe troppo lontano già a novembre e sarebbe gravissimo e sarebbe gravissimo anche per proprio per le prospettive non solo sportive ma anche economiche del club aggiungo non dovesse fare risultato con Juve e Atalanta fare risultato vuol dire quattro punti in quelle due partite non meno perché con due già rischi che se Fiorentina e Lazio fanno bene in quelle giornate di essere tanto distante Atalanta Fiorentina-Lazio Atalanta Inter-Napoli devo dire anche siamo ancora dieci secondi se dovesse fallire quelle partite la stagione assomiglierebbe tremendamente a quella vissuta con Marco Giampaolo e Stefano Pioli al primo anno 2019-2020 Champions va meglio però non c'aveva le coppe quell'anno era stato escluso Samu? Sì allora due parole sul Venezia di nuovo per rispondere quasi al mio amico Pietrella su Di Francesco per dire che Di Francesco è uno degli allenatori veramente più sfortunati secondo me in questo momento in Serie A io ho visto Parma-Venezia Venezia-Parma e il modo di giocare di Venezia ha messo davvero in enorme difficoltà il Parma ci sono un paio di azioni con questo 3-2-5 del Venezia palla in diagonale da una parte da quell'altra il gol del Parma arriva dopo un'azione meravigliosa del Venezia ed è brutto perché magari negli highlights non rientra l'azione precedente pure va vista perché in un'azione doveva essere 2-1 Venezia invece è stato 2-1 Parma il Venezia in questo momento sarebbe 14esimo se si guarda la differenza tra gol attesi e gol attesi contro cosa sono? Gol attesi è tutta l'azione fino al momento in cui un giocatore calcia i gol attesi contro al contrario sono tutta l'azione fino a che l'attaccante avversario calcia quindi se escludi la capacità dell'attaccante vado lungo e la capacità del portiere il Venezia sarebbe 14esimo perché crea tante occasioni e ne concede sì però magari non quanto effettivamente sembra dalla classifica ma tu puoi studiare la teoria dei giochi quanto vuoi però il livello della squadra è più basso rispetto alle altre e di conseguenza è la strada più difficile da percorrere per la salvezza però non disgusto vedere una partita del Venezia mi fa piacere e io di conseguenza spero che questo poi si veda anche in classifica basta che lo fa come col Frosinone è anche disfortunato il Frosinone sì lì Frosinone poi la seconda parte di stagione ha iniziato a cambiare troppo ha iniziato effettivamente forse anche a fidarsi lui stesso un po' meno delle sue teorie quest'anno io dico a questo punto vai però se tu vedi Frosinone come è andato giù l'ultima partita quella partita c'è tutto l'anno Frosinone che fa tanta sfortuna mamma mia mamma mia comunque spero che quest'anno abbia un epilogo diverso per lui ti ho concesso qualche seconda perché il prossimo argomento finale è zona delle traccessioni Venezia si trova ultimo momento insieme al Monza a 8 punti quindi questa è la visione di Samo quindi secondo te si possono rialzare possono tenere la testa fuori dall'acqua? in questo momento ci sono a quota da 12 punti in giù c'è il Parma direi da 10 in giù diciamo dal 15 vai da 13 c'è la Roma perché effettivamente è curioso c'è la Roma a 13 però c'è Parma Verona a 12 abbiamo il Como a 10 Geno a 10 anche Cagliari a 10 Lecce Monza e Venezia tra 9 e 8 al momento le squadre che sono messe peggio sono sicuramente secondo me il Lecce che adesso deve vedersi diciamo un nuovo allenatore quindi potrebbe cambiare in bene o in male il Verona è in grande calo dopo un buon inizio e per il resto io sinceramente vedo segnali positivi dal Monza nelle ultime anche contro la Lazio ha creato un sacco e il Venezia secondo me è una squadra che comunque crea il Genoa con Pinamonti è un'altra squadra che secondo me può avanzare parecchio il Cagliari l'abbiamo visto molto bene al momento forse se ne devo dire due che mi stanno piacendo un po' meno nel periodo sono proprio Verona e Lecce anche se vedremo con Gian Paolo come vedi Gian Paolo anzi io salvo il Como perché è troppo bene ha troppa qualità e vado un po' contro Samu io ho un po' paura del Monza ti dico la verità è vero che crea tanto però i gol che ha sbagliato Maldini con leggerezza e con tanta eleganza è un po' il simbolo di questa squadra che forse è troppo bella per lottare nel fango e ha un allenatore che è bravo però non ti dà poi magari quella quella foga quella rabbia che ti serve quando sei ultimo in classifica io ho un po' paura che sia fin troppo bello il Monza ecco è troppo gracile però magari diciamo che la cosa bella in questo caso di questa squadra è il fatto di affidarsi a un giocatore come Daniel Maldini così come l'anno scorso era Colpani però Palladino rispetto a Nesta aveva dato un'impronta un po' più interessante però l'impronta adesso qualcosa sto vedendo sto vedendo il modo in cui riparte il Monza contro la Lazio è stato pericolosissimo l'appoggio di Duric l'appoggio di Duric viene sottovalutato l'appoggio di Duric molto spesso equivale non sempre ovviamente ma molto spesso in Serie A può equivalere la salvezza e poi c'è Maldini Maldini che fa e qui era soltanto per fare una specie di percorso in questo tipo di azione questa cosa che l'ho vista contro il Milan l'ho vista contro la Lazio ovvero viene incontro perché perde palla e poi subisce gol il Monza da Zaccagni perché Maldini viene a recuperare palla centrocampo la perde in quel caso segnala la Lazio però lì serve perché poi quando poi il campo diciamo va risalito Maldini quasi zitto zitto dal centro-sinistra va a chiudere in area di rigore ha risbagliato un'altra occasione però se continuano così con l'arrivano tra i primi per tiri totali e per falli subiti in Serie A Maldini aggiungo una cosina sul Genoa che farà arrabbiare Tomy ma è vero a me sembra che nelle partite casalinghe spessissimo col Bologna è successo è successo col Como nell'ultima se la partita è in bilico negli ultimi minuti vale anche per il Cagliari vale anche per il Cagliari vale contro la Roma contro l'Inter cioè sia quasi lo stadio che segni perché veramente no veramente però io sono stato anche tu Luigi sento mille volte a Marassi e devo dire che se la partita è in bilico negli ultimi dieci minuti in quello stadio lì in quel campo lì non importa che ci sia in campo che ci sia Vogliacco che ci sia Beckenbauer cioè in quel momento lì la partita è stata complicata per chiunque non è un caso che la Roma prende gol negli ultimi minuti l'Inter prende gol negli ultimi minuti il Como prende gol negli ultimi minuti il Bologna prende gol addirittura da 0 a 2 a 2 a 2 nonostante fosse il momento peggiore in assoluto del Genoa Genoa che non era in fiducia e che per qualità obiettivamente anche per gli infortuni adesso ha aggiunto Balotelli per l'amor del cielo che di qualità sicuramente ne ha però l'infortuni di Messias Malinowski ha perso qualità nel mercato ha perso qualità dopo eppure sotto 2 a 0 fa 2 a 2 non si sa neanche come Pinamonte segna tantissimo su calcio da fermo con gli ultimi minuti Roma Bologna mi sembra proprio una squadra che è appesa con i denti alla Serie A ma in qualche modo grazie anche al tifo ce la fa voglio dire una cosa anche sul Parma prima di chiudere il Parma è una squadra che ha vinto adesso contro il Venezia non difende bene difende con questa linea di 4-4-2 praticamente che però contro le squadre ce ne sono un sacco in Italia che fanno il 3-5-2 quindi poi magari attaccano con gli esterni alti loro vanno in difficoltà infatti Aps è stato molto pericoloso contro il Venezia soprattutto la cosa che mi ha colpito è che non ci sono stati cambi da quel punto di vista il sistema è rimasto lo stesso e mi ha sorpreso a centrocampo SOM quando prima c'era Benabecola si è fatto male non sono molto adatti alla fase difensiva e per chiudere gli esterni il Milan anche se poi con scarso successo contro il Cagliari con grande successo contro il Real Madrid se doveva difendere ha messo Musa e ha tolto l'esterno d'attacco il Parma non ha quella tipologia di giocatore a Cancellieri a Miaila a Mann manca quel tipo di giocatore lì per poi coprirsi un po' di più sono tutti offensivi quelli del Parma quindi questo può essere una cosa bella per chi guarda le partite del Parma perché si diverte è una cosa brutta per chi fa Parma puoi perdere Bernabè Hernani ho perso anche Hernani un altro fisico fisicato Hernani è complicato e hai ragione tra l'altro l'attacco del Parma rispetto alle prime partite contro il Milan contro il Napoli stesso perché una delle partite dove il Napoli ha sofferto di più in casa è stato proprio col Parma l'attacco secondo me un po' chi lasciando stare che ha vinto l'ultima partita però è calato un pochino nei singoli cioè Mann è partito che sembrava veramente uno dei giocatori più in forma del campionato più forti del campionato Bonni stesso al di là del gol dell'ultima giornata ha avuto qualche problemino fisico hanno recuperato Benedizia sembra che si dica così che può essere un'aggiunta in più però come dici tu secondo me sono troppi giocatori offensivi cioè è una squadra veramente spezzata quelli che difendono quelli che attaccano e l'Italia diventa difficile così se devi salvarti dimmi voglio aggiungere qualcos'altro? no no basta per dire che mi sorprende vedere l'Empoli così in alto diciamo non di più alberi no mi sorprende per la rosa ovviamente a inizio non la mettevo un po' più bassa però sta difendendo davvero molto bene quindi al momento anche sopra sopra la Roma il grande Davis Vasquez sarà il mio prossimo top gran purtroppo sì questo è bellissimo primo giorno a Milanello no no chiudiamo con l'aneddoto primo giorno a Milanello era duro di quest'anno io vado ovviamente l'unico giorno fino ad adesso aperto in cui si poteva vedere l'allenamento io da ex portiere vado a vedere i portieri perché vabbè gli altri guardano gli altri io guardavo il portiere vado ai portieri vedo Vasquez con Sportiello c'era anche Toriani c'era ragazzi giovani Magna non c'era perché era con la Francia vedo i tiri di qua e di là vedo Vasquez e dico cavolo dal vivo sarà veramente forte questo sai l'allenamento poi non è la partita quindi partitella prima azione adesso adesso non mi ricordo no sinistro forse di Ciocquezza una parata pazzesca di di Vasquez sembra veramente forte perché siccome non l'avevamo visto mai perché col Milan non aveva giocato mai è andato in prestito forse dopo ad Ascoli anche poi era andato in Inghilterra questo sembra forte lo danno in prestito a Empoli però dico andrà a fare il titolare e poi non lo so chi c'hanno vado a controllare poi comincia a giocare partita con la Juve ce l'ho fatta a gatto non l'ho messo non l'ho messo non l'ho messo solo quando ho preso tre gol con l'Inter perché mi è entrato non l'avevo messo per dirti però veramente un portiere mi sta stupendo molto in positivo anche perché non lo conoscevamo perché o ti allenavi insieme a lui Milanello quando l'avevi visto mai ha giocato in Inghilterra in serie binglese quindi insomma tra l'altro l'è un po' di grande storia recente di portiere con Vicario non solo quello perché per chiudere forse è carino fare questa unione tra alta classifica chiudiamo il cerchio con una statistica ovvero che l'Empoli con Napoli e Juventus sono le tre squadre che concedono una pericolosità media dei tiri più bassa tirare contro l'Empoli è complicato quasi come accade contro Napoli e Juventus magari i tiri sono di più però sono molto spesso da posizioni difficili fuori aria perché l'Empoli si difende molto bene e questo lo vediamo in classifica infatti l'Empoli Juve 0-0 e l'Empoli Napoli 0-1 con quel rigore per cui Conte doveva andare davanti a tre camera e anche qua se abbiamo di chiuso il cerchio perfetto finale bellissimo come al solito vi ringrazio per averci seguito fino a qua vi invito a iscrivervi al canale attivare la campanella e lasciare un commento perché come vedete leggiamo tutti i commenti di tutti i tipi sia positivi che negativi che ci divertono sempre tutti se ci state seguendo sulle piattaforme di streaming Spotify Apple Music seguiteci e lasciateci una recensione di 5 stelle e noi ci vedremo il prossimo settimana ciao grazie a tutti grazie a tutti